Cresce la tensione nel mondo della ristorazione locale rispetto alle chiusure serali anticipate inserite nel nuovo DPCM. La probabilità palesata di un nuovo lockdown scatena reazioni a catena nel mondo del lavoro. Tra queste c'è anche quella dell'imprenditore pesarese Umberto Carriera, proprietario di 5 locali che ha affidato il suo pensiero anche ai social, raccogliendo migliaia di like e condivisioni che stanno già facendo il giro del web. Ci stanno trattando come degli animali razionali, sembriamo delle persone stupide, mi sembra tanto una sorta di dittatura, magari democratica, ma comunque una dittatura. Io non entrerò mai in merito, come non sono entrato in merito nello sfogo sui miei profili social, per quanto concerne la questione medico e sanitaria assolutamente no. Punto il dito, ecco, senza nascostrazione risconderlo, sicuramente contro le scelte del governo. C'è sicuramente dietro degli interessi politico ed economici, questo è assolutamente in dubbio. Quello che ho scritto è che non chiuderò i miei ristoranti qualora ci fosse un nuovo lockdown e i tanti messaggi ricevuti mi confermano che è un'idea, un pensiero che molti imprenditori hanno. Quindi continuerà a far lavorare i suoi dipendenti? Continuerò a farli lavorare, assolutamente sì, perché il lockdown deve essere assolutamente escluso. Le scelte economiche del governo sono disastrose, ripeto, oggi ci bombardano del numero dei contagiati, anche se in relazione ai tamponi che ci sono stati rispetto alla scorsa primavera parliamo di una percentuale molto bassa, ma non dobbiamo dimenticare che a dicembre, ad esempio, termina il blocco dei licenziamenti. Quindi secondo me nella prossima primavera andremo a contare le migliaia di famiglie che moriranno, ma di fame, le tante imprese che non riusciranno più a ripartire perché l'estate sicuramente ha dato una mano al monto imprenditoriale, ai locali, chi come me, locali al mare, in centro storico piuttosto che in collina, ma tra qualche mese, ripeto, finirà la cassa integrazione a novembre, cassa integrazione che mi pare mezzo milione di persone non ha ancora ricevuto. Ci sarà il termine del blocco dei licenziamenti, anche facendo una passeggiata qui in centro storico notiamo che il negozio sfitto e un aperto, uno sfitto e un aperto con una percentuale mi pare del 50% che è una cosa assurda che ci porta credo al secondo dopoguerra. Secondo me è un'assurdità normativa che ritroveremo tra 30-40 anni, i nostri figli e i nostri nipoti secondo me leggeranno nei libri di storia del disastro che è stato fatto.